Sinergie 2021 Ripartenza è l'hashtag, è il claim un po' di questa manifestazione, come si coniuga con la tua azienda il termine ripartenza, col tuo mercato che peraltro è molto giovane? Molto giovane sì, ripartenza per noi significa, è quello che ho trovato qua anche all'evento Sinergie, è proprio l'idea di provare a fare qualcosa di nuovo, ripartire con qualcosa di fresco, dare un'esperienza diversa al cliente, quindi focalizzandoci sul cliente non solo sugli agenti, venditori, ma proprio veramente sul cliente e portare qualcosa a casa di nuovo per loro. Scusa, e quindi per il cliente finale noi entriamo in questo contesto di cambiare i paradigmi per migliorare l'esperienza del cliente. Bene, vogliamo dare appuntamento a chi ci sta guardando a Sinergie 2022? Assolutamente, ci vediamo l'anno prossimo, un grande piacere.